segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te i geologi hanno detto che quella zona è una zona sicura dove si può vivere tranquillamente perché se i geologi dicono questo nulla questo oppure diciamoci la verità tutto quello che dicono i geologi quindi io mi riferisco solo a quello che dice la scienza e la tecnica che nel nostro paese non è solo ischia sia chiaro noi ce ne freghiamo ampiamente e poi quando avviene una tragedia urliamo tutti quanti che è stato un disastro perché è la seconda cosa si discute di tante opere pubbliche del nostro paese io non sono un ideologico la mia domanda è perché sono anni che i geologi quindi mi riferisco sempre continuano a dire facciamo una grande opera di messa in sicurezza del nostro territorio e nessuno la fa forse perché le montagne gli alberi e tutta la natura non vota e quindi noi non siamo interessati eppure alla fine ci sono queste vittime 2006 montevezzi sempre ischia io c'ero l'assessore della protezione civile all'epoca alla provincia arrivai in elicottero una famiglia sterminata avevano costruito sotto un monte una bomba d'acqua se ne scese tutto su sei familiari quattro morti un adulto e tre minorenni si sono salvati soltanto la mamma e un'altra figlia poi 2009 lo ricordava il direttore del golfo sempre una ragazza perché poi la cosa terribile è che la gran parte dei morti sono bambini sono giovani sono persone che non riescono a mettersi in salvo o sono persone anziane in questo momento faccio una